Chi è ricevuto? È finita la quarantena anche per gli spacciatori, ma due di loro sono già finiti in manette. Si tratta di due uomini di 44 anni, un italiano e un albanese, sorpresi dalla polizia di Fano a consegnare droga rispettivamente nei quartieri di Fenile e Centinarola. L'indagine degli agenti, coordinati dal dirigente Stefano Seretti, è partita dai movimenti sospetti di alcuni ragazzi che a bordo degli scooter si spostavano dal centro della città verso Fenile. Dai successivi approfondimenti è stata scoperta un'intensa attività di spaccio con il coinvolgimento di numerosi giovani fanesi per lo più dai 18 ai 30 anni. È emerso poi un collegamento tra quell'attività illecita e un fenomeno analogo presente nel quartiere Centinarola. In entrambi i casi i controlli si sono concentrati nelle vicinanze degli esercizi pubblici. Gli agenti, individuati i presunti spacciatori già noti alle forze dell'ordine, hanno effettuato una serie di perquisizioni nei loro confronti. Sono stati rinvenuti e sequestrati 120 grammi di marijuana, oltre 6.000 euro, ritenuti essere il provento dello spaccio e il materiale per il confezionamento delle dosi. I poliziotti hanno quindi arrestato i due soggetti. In particolare, il cittadino albanese era stato già espulso dal territorio nazionale ed era rientrato irregolarmente. Inoltre, era stato colpito da un provvedimento di carcerazione per la pena detentiva di sei anni e due mesi, inflitta per reati in materia di stupefacenti consumati in passato.